E' rimasto pietrificato l'imprenditore agrigentino Salvatore Aquilino quando davanti al cancello della sua casa ha trovato mezza testa di bue. Una vile intimidazione ai danni dell'imprenditore 42enne di Palma di Montechiaro, un paesino a pochi chilometri da Agrigento. Aquilino è titolare dell'impresa idile Arcadia. Per Confindustria non è così che possiamo far crescere l'economia agrigentina. Un atto assolutamente da condannare. Qualsiasi intimidazione venga fatta ad un imprenditore è una vessazione. Distoglie sicuramente lo spirito dell'imprenditore che deve combattere esclusivamente col mercato. Qui invece torniamo un po' indietro. Comunque è un gesto da condannare. Comunque. Sul posto hanno lavorato per diverse ore i carabinieri della scientifica eseguendo rilievi alla ricerca di tracce ed elementi utili per le indagini.